Il rugby è uno degli sport forse più belli che ci sono al mondo, soprattutto uno sport estremamente corretto e uno sport duro, duro come il mercato, ma è improntato sulla correttezza, sul fair play e questo è un po' il messaggio che noi vogliamo dare con questa immagine del nostro stand dedicato al mondo del rugby. Due squadre si sono unite, Decra Italia e MC Group e sono due squadre molto forti, hanno in comune il valore della correttezza nei confronti del mercato dei clienti, una mission molto alta e con valori molto alti, come si possono trovare nel gioco del rugby. Riteniamo che aver scelto questa immagine sia il modo migliore per rappresentare quello che oggi noi siamo. I ruoli dei giocatori si stanno definendo ogni giorno che passa e il nostro obiettivo è di non essere più delle semplici squadre che giocano in ambito locale, in campionati regionali o che da qualche anno sono assurde al campionato di eccellenza. Noi vogliamo poter giocare, le sei nazioni vogliamo poter giocare a livello europeo e a livello mondiale. Il fatto che Decra stia diventando un global player, un global service provider ogni giorno di più dimostra che noi siamo una parte importante, un team importante all'interno di una squadra internazionale. e e Musica Inauguriamo oggi 11 maggio 2011 i dealer day qui a Verona, siamo nella piazza più prestigiosa di Verona e l'occasione è per presentare il gruppo Decra composto da 11 società per un totale di 285 persone, un fattorato di 24 milioni di euro di consolidato nel 2010. Un piccolo accenno sui risultati del gruppo nel mondo, siamo in questo momento al primo posto nel mondo a livello dei servizi automotive con 24 mila dipendenti e un fattorato globale di 1,8 miliardi di euro. Musica 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 ...veloce, benissimo così poi diamo il via, ecco questo è il team d'Ecra che finalmente vedete qui riunito ed è la forza che avete visto anche oggi rappresentata e saranno i vostri interlocutori da oggi in avanti. Per cui buona serata, buon divertimento. Musica Grazie.